base 1 2 3 cambio di mano 5 6 7 7 giro di piede 8 1 2 3 3 1 2 3 4 1 basso 1 2 3 4 gira dai 1 2 pronta richiamo la mano onda laterale 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 4 5 7 7 9 1 2 3 3 1 3 4 5 7 1 3 4 5 5 5 5 6 5 6 7 6 7 4 5 7 7 7 7 7 1 2 3 4 5 5 5 7 7 7 1 2 3 4 5 7 7 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 6 7 7 7 8 7 9 9 10 11 11 12 12 12 13 6 8 8 9 10 10 11 12 13 14 15 Grazie a tutti.